Ciao, sono Eleonora, benvenuto al Brico Center di Fano. Facciamo un giro in negozio, voglio mostrarti tante soluzioni per la casa e per il giardino. È bello godersi gli spazi all'aperto. Ecco la nostra esposizione di arredo giardino. Tante idee per il balcone, il terrazzo e piccoli o grandi giardini. E perché non pensare anche ad una comoda piscina? Siamo sempre a tua disposizione per aiutarti e consigliarti. Ti aspettiamo!